Mi rifiuto di vivere in una condizione di limitazione della mia libertà nel timore che qualcuno possa reagire alle iniziative intraprese e sottraendo quelle poche forze di cui disponiamo per assicurare la presenza dello Stato sul territorio a beneficio della mia persona. Con queste parole Antonio Fiumefreddo, amministratore unico di riscossione Sicilia, spiega perché rinuncia formalmente alla tutela assegnatagli dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza per rischi legati alla sua attività istituzionale. «Sono e voglio restare un uomo libero, come le migliaia di cittadini che ogni giorno fanno il proprio dovere», scrive Fiumefreddo in una lettera inviata al prefetto di Catania, Silvana Riccio, e per conoscenza al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Ministro dell'Interno, Marco Minniti, al Governatore Rosario Crocette e al Procuratore Carmelo Zuccaro. Fiumefreddo ritiene che non sia bene far passare l'idea che fare il proprio dovere, come cittadino e come uomo delle istituzioni, debba avere come conseguenza l'allarme per la tutela della persona. Del resto, osserva se c'è chi pensa di risolvere il problema facendomi del male, visto che quello che avevo da dire e da fare scrivere è già a disposizione delle autorità competenti, sarebbe ben chiaro dove andare a cercare responsabili e mandanti. Fiumefreddo